Garavaglia, allora per la Lega servirebbero misure più radicali nel complesso di questo provvedimento e se sì quali? Ma guardi, la faccio semplice, sono venuto in taxi stamattina, il tassista ha iniziato il turno alle 5, era la prima corsa, sta in piedi perché il figlio gli dà dei soldi, ok, questo è il mondo reale, poi c'è il mondo del PD che è un'altra cosa, nel mondo reale servono cose vere, tant'è che si sa già che questa legge di bilancio è perfettamente inutile, si farà un altro scostamento a gennaio, c'è un altro decreto a gennaio, questo è il quadro, servono misure forti, ma davvero però, come ha fatto la Germania, la Germania le aziende in difficoltà gli ha dato il 70% del fatturato dell'anno prima, o fai così o andiamo a carte 48, molto semplice, allora gli autonomi facciamo una bella cosa, le partite IVA, per un anno non gli facciamo pagare i contributi, ecco cose importanti, forti che la gente capisce, ma in realtà non ho capito qual è la ricetta della sinistra, ma le faccio un esempio semplice, secondo voi è giusto che una fiorista vada in pensione un anno dopo rispetto a un'impiegata delle poste? Ovviamente no, ecco mettiamo in ordine queste cose, noi abbiamo un paese dove c'è una parte garantita e una parte non garantita, i non garantiti, gli autonomi, le partite IVA, i commercianti, gli artigiani sono in enorme difficoltà, facciamo un riequilibrio, ma andiamoli in pensione tutti lo stesso anno, è difficile? Secondo noi no. È difficile per i conti pubblici forse. Ho capito, e allora che facciamo? Secondo lei? Allora, è giusto o no? I conti pubblici devono rispondere a questa cosa, se una cosa è giusta o sbagliata, dopo i soldi si trovano, basta fare delle scelte, la politica è fare delle scelte.